Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Franky ed oggi sono qua per questo nuovissimo video Oggi è arrivato il momento di un nuovo appuntamento del Frank News La serie che vi tiene costantemente aggiornati sulle news videotiche e tecnologiche E poi basta perché altrimenti beh sarebbe un TG Oggi siamo in una postazione naturalmente diversa Mi vedete sono nello studio del Frank News Perché? Perché andremo a parlare in maniera molto approfondita Del nuovo gameplay di The Last of Us parte 2 che è stato mostrato proprio ieri sera Per chi non lo sapesse ieri sera c'è stato questo State of Play Cioè un evento appunto di Playstation dove vanno a svelare, a mostrare alcuni dettagli importanti sui loro giochi o sulle future uscite In questo caso The Last of Us parte 2 Andiamo a vedere questo gameplay inedito di 8 minuti Allora vediamo subito questo gameplay che io cercherò più o meno di commentarlo quanto più possibile Perché comunque sia... fa vedere un sacco di dettagli su questo nuovo gioco Appunto su The Last of Us parte 2 Innanzitutto la grafica si riconferma una grafica eccezionale Un livello di profondità assurdo E come ha già specificato Neil Druckmann nel corso di questa piccola presentazione Nella parte precedente Il gioco punta ad un livello di realismo veramente incredibile E lo si vedrà anche più avanti Le animazioni, la qualità delle animazioni è assurda Guardate anche già semplicemente come si immerge sott'acqua e riesce dall'acqua Veramente molto impressionante Continua questa sezione che ci fa vedere quindi che in certe aree Ellie potrà andare anche sott'acqua E qui già abbiamo un piccolo accenno degli ultimi momenti insomma in cui i giochi fanno uso di questi Chiamiamoli caricamenti Perché quello che succede in questo momento è appunto passare in un piccolo passaggio stretto Per poter far caricare il resto della mappa Anche qui l'ambientazione è curata benissimo Illuminazione incredibile E c'è un nemico Quindi in questo caso Ellie cercherà di avvicinarsi E dovremo naturalmente Staccare questo nemico Che tra l'altro C'è qui un piccolo easter egg Una piccola peculiarità Perché sta giocando con la Playstation Vita Da notare la qualità delle animazioni facciali La qualità dei personaggi Anche semplicemente dei vestiti del tessuto Guardate come la sua camicia è un po' rovinata Rovinata però in maniera veramente molto realistica Proprio come dovrebbe essere diciamo così nella vita vera Qui guardate quanto è crudo Quanto è crudo questo Questo gioco C'è stata questa violenta uccisione Che fa capire molto in realtà dell'evoluzione del personaggio Neil Druckmann lo ha già detto più e più volte Rimarcato più e più volte Che questo gioco punta molto sulla violenza cruda e pura Ma soprattutto sul concetto di vendetta Guardate anche che belle le animazioni Di quando vengono presi effettivamente gli oggetti E di come insomma vengono raccolti Tutti i dettagli che servono in un gioco Secondo me sono racchiusi all'interno di The Last of Us Parte 2 Da questo gameplay si è veramente visto tanto Secondo me forse anche troppo È stato forse veramente quel gameplay A parer mio finale Prima dell'uscita del gioco Perché ormai manca poco Vi ricordo esce il 19 di giugno E ci sarà la serie completa sul mio canale Twitch Che vi ricordo Twitch.tv slash Leavventure di Frankie Trovate il link anche in descrizione È veramente assurdo Guardate qui come l'arma è silenziata Utilizzando una bottiglia di plastica L'indicatore della pistola silenziata Con questa bottiglia di plastica Ha una sua durabilità Quindi è tutto molto molto coerente Con il mondo di gioco Cioè non è che tu hai il silenziatore infinito Guardate qui Si prende il nemico Si può fare l'uccisione stealth Lo si può portare in un punto nascosto E poi eliminarlo C'è questo sistema profondo Che ti permette sia di agire in maniera stealth Che in maniera non stealth Tutto in base al vostro approccio Ed è veramente assurdo Guardate qui come un nemico ci ha visto Qualcuno ha visto l'uccisione E quindi sta chiamando L'allerta diciamo Guardate qui invece che viene presa Questo bastone E con il sistema di crafting Una versione un po' più allargata Di quella che già si era visto Sul primo The Last of Us Abbiamo creato un bastone Con le spine Anche questo come nel gioco originale Ha una sua durabilità Quello che però mi ha colpito maggiormente Di questo The Last of Us Parte 2 Sono appunto le animazioni Lo continuerò a ripetere all'infinito Ma c'è un livello di dettaglio Incredibile Qui addirittura È stata secondo me Una scena anche pesante Questa non so se la terrò La taglierò Però insomma Ellie ha persino ucciso Con una molotov Un soldato Ma anche un cane Con tanto di suono Quindi è molto pesante Questo gioco Sarà molto crudo Forse anche fin troppo E quel genere di crudeltà Che quasi ti viene voglia Di distogliere un attimino Lo sguardo dallo schermo Perlomeno a me è successo Certe volte Già guardando certe scene Magari voi Potreste anche guardarlo sempre In maniera ininterrotta Però personalmente Questo è quello che ho percepito Dal gioco Da questo gameplay Ambientazioni Che si passa Da una grande ambientazione aperta Da una grande ambientazione chiusa Ricca di dettagli Ricca di nemici È assurda La qualità del gioco Lo state vedendo in questo momento Ragazzi Qua siamo di fronte Secondo me Al gioco dell'anno E non lo dico semplicemente Dopo aver visto questo trailer Ma dopo Tutta una serie di grandi informazioni Che si è avuta su questo gioco Fin Dall'anno scorso Ma Addirittura andando a ritroso Fin dall'E3 del 2018 Quando si era visto Il primo effettivo dettaglio Il primo trailer Comunque sia Su questo gioco E Sicuramente È un titolo Grande È un titolo imponente Guardate qui questa scena Noi possiamo prendere Un Un soldato Un giocatore Utilizzarlo poi Come scudo E poi allo stesso tempo Eventualmente dopo eliminarlo Quindi naturalmente questo gameplay Cerca un po' di diversificare Quanto più possibile Ma qua guardate C'è l'elemento Che mi ha fatto veramente dire Oddio Che figata Allora in questo momento Siamo un po' braccati Utilizziamo il fucile Guardate che belle anche le animazioni Per la ricarica E c'è la porta Si cerca di aprire Guardate qua Siccome ci hanno sparato Non è che l'animazione Si interrompe in maniera brutale Bensì Riprovi Torni indietro E poi Ritorni sul punto È qualcosa di incredibile Perché in molti giochi Semplicemente L'animazione si sarebbe interrotta Invece qui c'è Un'animazione Coerente Su quello che succede È bigissimo ragazzi Quello che voglio cercare Di farvi capire In questo video In questa reaction Comunque sia Commentata A questo gameplay trailer Di The Last of Us Parte 2 Che è un titolo Secondo me Da non Farsi sfuggire assolutamente Se siete dei possessori Di Playstation 4 O Playstation 4 Pro Sono comunque confermato Che il gioco Girerà bene Su Playstation 4 Liscia Sebbene ovviamente Sulla Pro magari Avrete dei vantaggi In più sicuramente Però il gioco È profondo E da questo gameplay Il mio verdetto Continua sempre di più A salire Verso la positività Ma soprattutto Verso un potenziale Game of the Year Perché qui veramente Ci ritroviamo di fronte Ad un elaborato Curato nei minimi dettagli Profondo E la storia Sì è importante Ma anche il gioco In sé per sé È veramente Il punto focale Di questo titolo Comunque Il gameplay Sta per volgere al termine Ragazzi fatemi sapere Qua nei commenti Se questo The Last of Us Part 2 Lo farete vostro Al day one Oppure no Detto ciò Però che questo video Vi sia piaciuto Un po' di informazioni Una disamina completa Su questo gameplay trailer Di The Last of Us Part 2 Vi invito a passare però In streaming Oggi All'ore 18 Dove continueremo A parlare proprio di questo Gameplay trailer Grazie per essere stati qui A mia compagnia Lasciate un mi piace In caso questo video Sia stato di vostro gradimento E noi ci vediamo Al prossimo video Come sempre Dritto per dritto Grazie a tutti